Ciao, oggi vi parlo di un imponente gioco a tema medicina ambientato nell'antica Grecia e precisamente vi parlerò di Hippocrates di Alain Orban per 1 o 4 giocatori una durata di circa 30 minuti a giocatore edito da JokeX.it Io sono Teo e queste sono Recensioni Minute Recensioni Minute Na 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 Recensioni Minute Ciascun round è suddiviso in 5 fasi successive la prima fase è quella di accoglienza ciascuno dei malati avrà un requisito di medicinale da soddisfare per essere curato ci fornirà delle monete non appena entrerà in clinica e ci darà punti vittoria se curato i giocatori quindi seguendo quest'ordine si piazzeranno in una colonna vuota per accogliere il malato prelevano il malato a fianco di dove è posizionato il dado prendono o perdono eventualmente le risorse che sono scritte sotto il malato e piazzano il malato nella propria plancia il secondo giocatore ad esempio fa così, il terzo giocatore prenderà questo e il quarto giocatore deciderà ad esempio questo ora si rilanciano i dadi, non si ripristinano gli spazi vuoti e semplicemente gli indicatori dei giocatori scivolano in altro per una nuova fase di recupero malati tutto questo si fa per 3 volte dopo che i malati sono stati accolti ciascuno di loro fornirà l'obolo come abbiamo visto a questo punto nella fase 2 ciascun giocatore dovrà pagare i medici ancora presenti nel proprio ospedale a seconda del livello raggiunto nella propria reputazione più la reputazione sarà alta meno pagherà i medici nella fase 3 è tempo di reclutare i medici ogni giocatore in ordine di reputazione potrà scegliere se reclutare un medico tra quelli scoperti oppure un kit di medicinali oppure se recluterà medico e medicinali della stessa regione avrà anche questa tessera bonus da tenere per sé ciascun medico ha un costo in monete indicato qua potrà somministrare solo un certo tipo di medicine da 1 a 3 volte e una volta che ha somministrato il suo numero massimo di medicinali ci fornerà anche i relativi punti vittoria nella fase 4 finalmente si possono curare i pazienti bisognerà quindi incastrare i medici dal loro lato libero dove c'è la somministrazione medicinali in modo tale che la somma dei simbolini possa fornire i medicinali richiesti dal paziente e ovviamente bisognerà piazzare sul paziente anche le boccette corrette la fase 5 è quella del punteggio se ci fossero malati in condizioni gravi essi moriranno e perderemo 3 punti vittoria a fine partita altrimenti tutti i malati slittano in condizioni peggiorative dopodiché ciascun malato curato in quel turno ci fornerà i punti vittoria dati dalla propria tesserina e un punto reputazione per ciascuno di essi e verranno girati a faccia in giù nel caso poi il medico abbia completato tutti i suoi contratti semplicemente ci fornerà anche lui i punti vittoria e se ne andrà una volta quindi sistemata la situazione in tavola e i punti vittoria si prepara il tabellone per un nuovo round si giocano esattamente 4 round e chi al termine del quarto avrà più punti vittoria sarà dichiarato il vincitore come avete visto il regolamento non è immediato da prendere e in ciascuna delle fasi ci sono anche dei piccoli modificatori che potrete usare per ottimizzare le vostre mosse come ad esempio degli aiutanti che riuscirete a prendere e spendere nel corso della partita che modificano leggermente il risultato dei dadi e quindi faranno meno pesare ancora l'alea del gioco nonostante questo però le fasi sono ben distinte fra di loro quindi una volta che avrete giocato un primo round completo vi posso già dire che dal secondo round non ci sarà bisogno di tornare più sul regolamento tutto sarà ben strutturato e quindi dovrete solo concentrarvi fase per fase nell'ottimizzazione è chiaro però che un round va pianificato nella sua interezza a partire dalle battute iniziali fino a quelle finali già solo scegliere quanti e quali pazienti portarvi in clinica in quel round cambia radicalmente la struttura del round stesso potreste infatti decidere di portarvi a casa dei pazienti che danno pochi punti ma tanti ovoli in modo tale da curarli velocemente e avere una bella scorta di soldi per prendere i medici più interessanti oppure potreste fare dei turni medi insomma portare a casa magari anche solo due pazienti in modo tale da poterli curare e non avere nessuno con condizioni che andranno a peggiorare o ancora fare il numero massimo di pazienti decidere di non curarne alcuni ma solamente per portarsi a casa i bonus che sono segnati negli spazi sotto a dove li avete presi rivaltate questi ragionamenti anche sulla complessità nella selezione dei medici e capirete perché a fronte di un regolamento comunque lineare questo è un gioco adatto a giocatori esperti parlando di scalabilità vi dico che la percezione al tavolo deve avere comunque 4 giocatori che portano via tesserine semplicemente se siete in meno di 4 ci saranno dei fantasmi che muoveranno velocemente il proprio pinnolino nella colonna del malato con il valore più alto indicato sulla tessera e quindi lo toglieranno dal tabellone e cambieranno l'ordine di turno e poi avranno un certo valore di reputazione e che quindi anche al loro turno porteranno via uno dei medici sempre con il valore più alto riportato sulla tesserina segnalo appunto per i giocatori esperti comunque che questo è un gioco senza una reale crescita dovrete cercare di prendere delle risorse e consumarle tutte entro la fine della partita potrete quindi concatenare alcuni turni tenere delle risorse per il turno successivo ma l'idea è cercare di arrivare sempre a somma zero per non dover pagare gli stipendi per alcuni medici che non avete sfruttato per intero questo permette di non avere la fuga di un giocatore che è partito magari particolarmente bene ma allo stesso tempo sappiate che non avrete un motore di crescita all'interno del gioco chiudo quindi dicendovi che i materiali sono tantissimi ne avrete tanti sul tavolo e anzi dotatevi di un tavolo grosso perché dovete mettere anche le varie plance giocatore sono comunque tutti ben rappresentati con disegni tutti diversi fra di loro quindi anche molto piacevoli alla vista e non mi resta che quindi invitarvi a fare una partita di questo Hippocrates ho finito e vi saluto con un ciao e alla prossima bene attendo quindi i vostri commenti su questo gioco bello corposo scrivetemeli pure qua sotto cercherò di rispondere a tutti quanti non dimenticate di iscrivervi sia su youtube che su telegram per rimanere aggiornati sempre su recensione minute e vi darò anche qualche dritta su alcune offerte o chicche che trovo in giro e poi ricordate che potete sostenere il progetto recensione minute in modo tale da migliorare sempre più la mia produzione acquistando i giochi tramite il link qua sotto acquistando magliette come quella che sto indossando oppure offrendomi un caffè e partecipando in prima persona a recensione minute ciao